Regione, provincia, comune di Macerata e società quadrilatero hanno raggiunto l'intesa per la realizzazione della strada Mattei Lapieve, prosecuzione dell'intervalliva di Macerata già prevista nel progetto. È il risultato nell'incontro promosso in regione dal presidente Gian Mario Spacca insieme al presidente della provincia Antonio Pettinaria, i sindaci di Macerata Romano Carancini e di Corridonia Nelia Calvigioni. Era fondamentale che si ponesse mano in maniera forte, decisa e concreta per rompere quell'isolamento a cui sembrava condannata purtroppo non so per quanti anni la città di Macerata, il nostro capoluogo. Ora si può dire che con questa realizzazione effettivamente ci sarà anche il collegamento per la media valle del Potenza con questa importantissima arteria. Quindi in questo senso io ritengo che sia una svolta storica. Il presidente Gian Mario Spacca che ha voluto, che ha accolto, che ha ritenuto di coinvolgere l'amministrazione regionale non solo a livello politico istituzionale ma in maniera concreta, con risorse e soprattutto con il peso politico istituzionale che ha fatto sì che attorno al tavolo ci fosse la quadrilatero che sta realizzando l'arteria non solo sta realizzando la Civitanova Foligno ma che sta progettando e dovrà realizzare lo svincolo di Campociano sulla superstrada e il tratto che la collegherà con la Pieve e quindi già con la Provinciale 485. Ma altrettanto importante è anche stata la partecipazione e il sostegno da parte del Presidente Giuliano Bianchi e della Camera dei Commerci. Mi piace anche sottolineare come finalmente, e qui esprimo la soddisfazione, al nome dell'amministrazione provinciale e della maggioranza finalmente trova compimento, trova attuazione, che è stato un impegno preciso del programma elettorale e delle linee di mandato e che ha trovato sostegno e concretezza nel bilancio del 2012. Il primo bilancio, noi nel primo bilancio abbiamo posto come priorità l'obiettivo di realizzare questa arteria. Mancavano le risorse, in quanto naturalmente il Comune di Macerata non era in grado, per una serie di motivi successivi all'accordo del programma, di garantire la sua quota. C'era la volontà della stessa amministrazione comunale e quindi ecco che la svolta è avvenuta grazie ai protagonisti, agli attori a cui prima ho fatto cenno. Il lavoro, la coesione a cui quest'estate abbiamo fatto sempre cenno per altre vicende del territorio è assolutamente indispensabile. Quindi quando ho fatto riferimento alla Regione Marchi, al suo Presidente Spacca e all'Aquadrilatero, non solo al Presidente che lì è presente, ma al Direttore Generale, l'Architetto Romozzi, al componente del CDA dell'Aquadrilatero, Armando Pupo, sono persone, sono stati anche loro straordinari protagonisti per ottenere questo risultato. Quindi mi piace ricordarlo. Poi vorrei fare anche, non una battuta, ma dire, confutare quanto si è scritto, quanto si è detto da parte di alcuni personaggi esponenti di questa provincia. E quando alludevano all'ammancato raccordo istituzionale tra provincia e regione. Non mi pare che sia proprio così. La regione, naturalmente, deve tener conto di tutta la comunità marchigiana, ma non è così lontana e non è sicuramente così ostile quando, come in questo caso, partecipa e diventa protagonista di una realizzazione storica per il nostro territorio. Adesso dovranno, e in questo senso, fin da subito sono impegnati i tecnici, i dirigenti delle amministrazioni per implementare, per, diciamo, aggiornare quell'accordo di programma stipulato nel 2009 e per, diciamo, anche inserire nello stesso la partecipazione della stessa quadrilatero in modo da procedere in maniera concreta all'attuazione di quanto deciso. Quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, poi daremo conto dei passi istituzionali, dei provvedimenti e delle procedure che porteremo a compimento per eseguire, per attuare questo programma. L'intesa è il presupposto fondamentale per richiedere al Cipe anche il completo finanziamento dell'intervalliva di Macerata. Regione, provincia e comune si sono impegnati ad estendere l'accordo di programma dal punto di vista finanziario, ognuno per una quota di un terzo del fabbisogno che ammonta circa 11 milioni di euro a testimonianza della priorità strategica che riveste tale opera viaria, che collegherà la superstrada 77 a Via Mattei nel centro di Macerata. Il risultato si raggiunge soprattutto perché viene capovolta l'impostazione che l'accordo di programma del 2009 aveva fornito. Oggi l'intesa fra gli enti territoriali presuppone che l'opera sarà realizzata con il contributo paritetico di comune, regione e provincia. 3 milioni per ognuno degli enti, oltre alla collaborazione e all'intervento molto verosimile e molto probabile da parte della Quadrilatero. Questo per il comune di Macerata diventa un passaggio decisivo perché il precedente accordo di programma prevedeva un investimento di 9 milioni che oggi attualmente nelle condizioni date della economia pubblica, soprattutto per quanto riguarda il comune di Macerata, alla luce anche dei vincoli di spesa, del patto di stabilità, probabilmente non si sarebbe potuta realizzare. Sarà di grande auspicio per quanto riguarda alcune zone particolari della nostra città, alcuni quartieri, in particolare quello Santa Lucia, che vedrebbe sgravato il proprio traffico veicolare, quindi la pesantezza di quello che oggi avviene in quel tratto, attraverso questa nuova arteria. Naturalmente un vantaggio determinante la avrebbe perché anche Sforzacosta, che oggi è l'unica via di accesso attraverso la superstrada verso la nostra città, verrebbe bypassata da questa nuova arteria che, ripeto, dalla superstrada in località Campogiano, permetterebbe di arrivare prima alla Pieve, quindi a Via Mattei, e poi consentirebbe il superamento della città attraverso il piano di ricostruzione. Naturalmente è un'opera fondamentale, vi è un ulteriore profilo di grande valenza, e cioè che l'opera verrebbe realizzata dalla Quadrilatero attraverso la legge obiettivo, e quindi attraverso tutte quelle agevolazioni, quel percorso privilegiato che la legge obiettivo ha conferito alla Quadrilatero per la realizzazione dell'opera. Al ruolo di Gian Mario Spacca, Presidente della nostra Regione, che ha ritenuto quell'opera strategica per la città, quindi avendo la capacità di ascoltare, non solo di sentire il territorio, quindi ascoltare e capire le problematiche, e quindi da questo punto di vista avere la sensibilità e soprattutto l'attenzione ai cittadini maceratesi, in questo caso, per la realizzazione dell'opera. Ricordo che la Regione passa da un intervento di 800 mila Euro a 3 milioni di Euro. Analogo ragionamento va fatto per il Presidente della Quadrilatero, il Dottor Galia, che davvero ha avuto grande attenzione e grande disponibilità rispetto alle proposte, alle istanze del territorio, e il territorio stesso. Credo che questa sia un'occasione davvero emblematica di come il territorio possa, lavorando in squadra, raggiungere risultati importanti. Naturalmente la provincia, e il grazie va anche ad Antonio Pettinari, ma io credo che non debbano lesinarsi i ringraziamenti anche alla Camera di Commercio, a Giuliano Bianchi, che ha svolto davvero un lavoro fondamentale e di supporto, direi particolarmente incisivo, rispetto alla decisione della Quadrilatero di intervenire nel progetto.